Doppio progetto per rilanciare ristoranti, negozi e attività artigianali di Norcia e Castelluccio. La presentazione ai commercianti è avvenuta nel corso di una riunione nella città di San Benedetto alla presenza anche dell'amministrazione comunale. I progetti hanno l'obiettivo comune di consentire la ripresa di quelle attività ancora ferme a causa dei danni subiti dal sisma. A Norcia sarà attuato il piano di Paolo Verducci, docente della Facoltà di Ingegneria Civile dell'Università di Perugia e prevede nove ristoranti in prossimità delle mura della città. I negozi invece saranno in viale della stazione, mentre laboratori e attività produttive saranno dirottati nella zona industriale della città. Il progetto di delocalizzazione di ristoranti, negozi turistici e caseifici di Castelluccio è stato realizzato dall'architetto Francesco Cellini e prevede la costruzione di un complesso di strutture temporanee poco sotto il borgo in grado di ospitare 24 esercizi commerciali.